Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Farming Simulator 22, come sempre nella mappa Elm Creek e come sempre vi vado a ricordare che in descrizione potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tantissimi altri giochi scontati allora ragazzi, dobbiamo andare avanti con la questione uva, non abbiamo finito perché dobbiamo anche togliere l'erbaccia e dobbiamo anche coltivare il terreno, allora dico questo perché sono andato a vedere un po' la guida perché su internet andando nel sito di Farming c'è la guida su come si lavorano i campi vi lascerò in descrizione anche questo link, però è in inglese quindi vabbè in caso mettete la traduzione automatica e sono quindi andato un po' a leggere perché comunque voglio dire pure io sono nuovo per quanto riguarda l'uva e le olive su Farming è una cosa nuova anche per me quindi di preciso cosa devo fare, preciso preciso non lo so però basta andare sul sito e possiamo insomma studiarci la cosa no perché voglio dire non siamo tutti ovviamente nella vita reale degli agricoltori non lo sono neanche io quindi quindi mi serviva un po' una guida e quindi ho letto che dovrei togliere l'erbaccia e dovrei anche coltivare e quindi dobbiamo comprare questi altri due strumenti ok allora un attimino che devo parcheggiare ok sto parcheggiando qua per ora mi sa che mi servirà un altro capanno forse mi servirà un capanno dedicato all'uva eh magari potrebbe anche essere una buona idea però sarebbe utile avercelo dove ho l'uva ovviamente ovviamente sarebbe utile avere un capanno lì poi vediamo poi vediamo allora per intanto sto sistemando il tutto perché qua ho la strada completamente occupata dovrei mandare il piccolo trattore il landini lo dovrei mandare a ritirare giustamente questo questi nuovi attrezzi se li posso trasportare insieme con lui shop e vai allo shop abbiamo credo abbastanza soldi per comprare questi due attrezzi qualcuno di voi mi ha detto nicchia ma perché non hai comprato il fend 200 invece del landini allora io ho risposto che praticamente non me ne sono accorto cioè sono andato qui io ho comprato questo perché ho detto vado a vedere i pacchetti così faccio prima senza che devo cercare le cose singolarmente no però è vero che ci sono altri trattori adatti oltre a questo oltre a landini ci sta pure il c'è anche questo volendo è che a metano c'è anche questo che a metano però con i cingoli mi trovo un pochino male mi trovo un po male vediamo magari in futuro lo proviamo non lo so però è a metano quindi ci vuole pure la stazione adatta per la ricarica mentre il fend 200 eccolo qua che poi costa il doppio eh in confronto a quello che in confronto a landini questo costa il doppio quindi per ora che non mi va di spendere troppi soldi dovrebbe andar bene il landini insomma ok salvataggio partita in corso ok allora vediamo un po' quindi io torno su pacchetti uva e dobbiamo comprare queste questi due per ora beh ce la famo tranquillamente compra sì indietro compra sì ok vediamo se riusciamo a portarceli via entrambi lo aggancio davanti questo ok ma no niente una 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 idea che non può funzionare ma va bene niente o magari funziona ma poi qualcuno mi dice che è irrealistico quindi non lo faccio perché noi dobbiamo togliere l'erbaccia e poi dobbiamo coltivare giustamente ciò eh diciamo così la mini falciatrice davanti e il coltivatore dietro uno dice vabbè accendo quello davanti metto quello dietro faccio due cose in uno ma penso che non è così anche perché sul sito fanno vedere che la cosa è separata in due passaggi quindi prima coltivazione poi eh cioè prima togli erba poi coltivi è quello che ho visto e poi come quarta operazione c'è scritto metti il metti il fertilizzante io il fertilizzante l'ho già messo perché comunque l'abbiamo messo mi pare in un momento che ancora forse l'erba era piccola non mi ricordo vabbè comunque beh l'importante comunque è che me l'ha preso il fertilizzante però quando ho visto nel sito i passaggi sono togli erbaccia coltiva e metti fertilizzante questi sono i passaggi che io ho visto poi raccogli l'uva e poi c'è da pulire per la nuova raccolta l'ultimo attrezzo che devo ancora comprare in pratica lo utilizzeremo dopo dopo della raccolta quello allora vediamo un po' purtroppo questo terreno non è mio se no ci mettevo magari un capanno per poter ovviamente parcheggiare qui le cose che mi servono qua allora lasciamo comunque questo un attimo qua e quello davanti lo mettiamo dietro andiamo quindi a rimuovere le erbacce dai e aggancia abbassa accendi ok e come potete notare stiamo togliendo le erbacce mi sa che non abbiamo un trattore che possa entrare qua dentro vero cioè ok Robby ha fatto vedere che bene o male ci entrava il cingolato il fiat però ci entra proprio a malapena non è proprio l'ideale ci voleva un trattore stretto come questo e ovviamente andare a comprare un trattore un altro no peccato che non ci possiamo mettere l'operaio raga e almeno che io sappia no mi sa che sarà un lungo lavoro questo devo vedere una cosa però vediamo se dice tipo erbaccia ma non lo dice a dire verità non c'è scritto erbaccia non so neanche quindi se sto a fare la cosa corretta o meno perché il gioco non mi dice nulla al riguardo dalla guida so che va fatto però il gioco non dice che lo che manca questa lavorazione io lo sto a fa ma il gioco non dice nulla al riguardo prova a metterci l'operaio non lo mette magnifico campo non trovato quindi uno non ci può neanche mettere l'operaio lo devi fare manualmente e se hai molte 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 file pensa te quanto lavoro se hai molte file quanto ci devi mettere qua allora visuale in prima persona così vediamo anche com'è tanto alla fine voglio dire sempre quello viene fuori come lavoro no l'unico problema è che c'ho paura che mi vada a schiantare contro l'uva mettila a retro mettila a prima devo pure fare devo fare 20 passaggi in pratica ok volendo potrei anche provare col fiat vediamo se ma è proprio pro è troppo ci entra a malapena però boh eh ma tanto non cambia niente non cambia niente perché tanto visto che non ci posso mettere l'operaio sempre io devo passare quindi non è che mi cambia più di tanto cioè è inutile prendere due trattori se poi non ci puoi mettere l'operaio in uno abbastanza inutile no ok ragazzi abbiamo quasi finito di togliere l'erba manca l'ultimo passaggio e poi dovrei coltivare quindi oh mi sono andato a schiantare allora mo ma sai che però da sto lato potrei distruggere qualcosa mi sa eh eh già vabbè fa niente poca roba ok ok almeno questa è andata vabbè non ho tolto l'erbaccia proprio beh è difficile toglierla stando vicini all'uvo ovviamente sarà rimasto qualche ciuffetto qua e là ma poca roba allora quindi mo sempre seguendo la guida il prossimo passo è questo vi ricordo la guida ve la lascio in descrizione sto seguendo i passi aggancio questo già mi sembra più grande quindi non so se devo fare avanti e indietro come ho fatto finora un po' più grande non tanto vediamo beh io no ah si no la differenza si vede ah ma che mi mette le pietre mi sta a mettere le pietre vabbè uguale che devo fare come le tolgo beh si potre no non si può no non si possono togliere le pietre perché non c'è un togli non c'è un togli pietre così piccolo almeno vabbè ho visto solo una pietra ah e qui ce n'è un'altra mo però si vede la differenza raga vedete qui si vede la terra qui si vede più verde la differenza si vede però come dire bonus alla resa oddio queste cose non si vedono dovrei passare al centro e se passa al centro diciamo che ma io non lo so se devo passare solo al centro o devo fare avanti e indietro nella guida non c'è scritto se devo fare avanti e indietro però penso se devo togliere tutto quello che è verde cioè se devo togliere qua penso mi tocca fare avanti e indietro no? presumo e dai non ti schianta e io presumo che devo fare avanti e indietro qua è terrico cioè qua non c'è il verde qua c'è il verde penso sia così che poi comunque ripeto il gioco non mi sta a dire se effettivamente sto a fare una cosa giusta o meno cioè mi sto basando sulla guida che dice che lo devo fare peccato vediamo l'operaio si me l'ha preso però vabbè me l'ha preso l'operaio ma dubito che mo torna indietro però c'è una signorina qua vedete l'operaio me l'ha preso ma sinceramente io dubito che che se può fare qualcosa qua vediamo ma magari ne eh di fatti ho smesso ma magari se poteva mettere l'operaio cavolo mi sa che l'uva è il lavoro più lento che c'è l'uva e le olive devono essere il lavoro più lento che c'è nel gioco il tipo di lavorazione è più impegnativo ok ragazzi dai abbiamo quasi finito anche di coltivare quindi il terreno spero che sto facendo i passaggi correttamente in caso giustamente se volete darmi ulteriori consigli fatelo nei commenti ma penso che sto a fare le cose abbastanza correttamente almeno mi sto basando sulla guida quindi tutto sommato gli effetti si vedono l'erbaccia è più corta stiamo coltivando ho anche capito la questione la questione come si chiama delle pietre la questione pietre l'ho pure capita praticamente le pietre appaiono solo al di fuori del vigneto e non appaiono dentro al vigneto quindi vedete che non ce n'è pietre dentro appaiono fuori perché qui siamo fuori dal vigneto questo è vigneto questo è fuori quindi le pietre appaiono solo all'esterno del vigneto e non appaiono all'interno del vigneto quindi penso che non c'era bisogno tipo di togliere le pietre quando l'abbiamo fatto con Robby e Mity perché probabilmente metti il vigneto cambia un po' tutto cambia proprio il tipo di terreno diventa diverso vabbè e mo di fatti lo vedremo meglio quando passo dall'altro lato lì dove diciamo lì dove abbiamo cancellato il raccolto potrebbero apparire delle pietre ultimo giro e abbiamo finito per ora poi c'è da fertilizzare di nuovo e per quanto riguarda questo sempre nella guida ho letto che praticamente si può passare anche solo una singola volta il fertilizzante però dalle impostazioni bisogna selezionare doppia doppia dose una roba simile vedete che sono apparse le pietre vedete come vi stavo a dire io questo è fuori dal vigneto e quindi appaiono le pietre quindi si può mettere tipo doppia dose ok e fino a qua è andata ora io non credo che questo sia il mio terreno però volendo potremmo anche fregarcene nel caso ci mettiamo comunque un capanno non lo so a dire la verità di chi è sto terreno dove ci troviamo noi terreno non è mio vero no non è mio completamente che poi il bello è che non puoi neanche comprarlo sto pezzo di terra per dire mo ci metto qualcosa cioè non hai scelta va il gioco te dice va fai come vuoi perché tanto qua non ti daremo mai la possibilità di comprare il terreno vediamo un po quindi se posso metterci un capanno però deve essere molto economico e molto piccolo questo non è piccolo è troppo grosso no non mi piace ok potrei metterlo qua a dire la verità però no e poi come ci vado lì ci passerei a mala pena non mi piace l'idea di distruggere la strada a meno che non lo metto qua è troppo grande raga è decisamente grosso ce ne voleva uno più piccolino cioè quello più piccolo costa pure di più garage aperto grande costa caspita è normale più la roba economica è più grande mi sa che cercherò un capanno moddato raga magari cerco una mod perché non mi piacciono sti capanni o sono troppo piccoli e costosi o sono troppo grandi ed economici io voglio un capanno piccolo ed economico cioè non è che voglio spendere 44.000 euro per un capanno per ora li lascio qua allora tanto c'è un bel tempo voglio dire e niente insomma fino a qui è andata mo che se può fa restituiamo un po' di debito e mi sa che l'unica è mettere il gioco veloce perché non c'è niente da fare però devo far passare il tempo sì però devo vedere se per caso il raccolto mi cresce un po' così fertilizziamo la seconda volta quindi gioco veloce siamo arrivati a giugno ma non mi sembra proprio che non è cambiato niente qua non credo che possiamo fertilizzare uva è in fase di crescita e in teoria adesso io c'ho da trebbiare quindi mi sa che per o no pensavo che c'era da trebbiare no quasi vedete i terreni sono molto scuri quindi quasi da trebbiare quasi il giorno dopo credo però come sempre immagino che le uova e come sempre le vacche quanto valgono le uova fast food oh beh niente male 3.800 da johnson mettiamo il gioco ancora un po' veloce vediamo se mi aumenta ancora 3.800 37 sto salendo ok allora le uova dobbiamo andare a venderle mi serve un mezzo adatto eccolo 3.8 e 40 si è fermato a 3.8 e 40 da johnson però insomma ma si andiamo a vendere sapete perché perché siamo veramente indebitati fino al collo almeno recuperiamo 2 lire e poi non so neanche do mettere più le uova cioè siamo strapieni so bene che si potrebbe arrivare a un po' di più andiamo non rompermi sto cosa è messo qua carichiamo l'autoload che poi mi sa che non ci entra neanche tutto perché abbiamo veramente un botto di uova che cosa ecco ok ecco già questa cosa mi da un po' di problemi giustamente io che lascio tutto in mezzo alle scatole che miseria i soliti bug assurdi allora piglia pure questo ovviamente col cavolo che ci entrano tutti avrei voluto avere un altro piano ho lasciato sto coso qua andiamo che non mi vado e fa 50 viaggi in un modo o nell'altro carico questi qua sopra e me li porto via guardate qua che mega carico di uova che abbiamo ok eccoci qua devo anche prendere quello più in qua a posto per fortuna non ho più capitato il bug delle vacche urlatrici ok mi sa che è arrivato uova non accettato qui ok deve essere arrivato scarica a posto che le vacche mangiano tantissimo quindi purtroppo vendiamo a un prezzo leggermente più basso ma almeno togliamo un po' di mega debito perché tanto ci rimetto in interessi tè guarda quanti soldi che arrivano almeno un 200.000 euro penso che li famo andiamo 207.000 euro torno in farm ok meraviglioso e beh con sti soldi addirittura potrei comprare la raccogliuva però ovviamente la prendiamo quando arriva il momento non la vado a prendere ora meglio per ora abbassare gli interessi del debito olè va benissimo così va bene allora ragazzi però vedo che il tempo è stravolato via ci dobbiamo fermare qua inizieremo a trebbiare poi la prossima volta e quindi ovviamente spero che il gameplay vi sia piaciuto come sempre mi raccomando ragazzi commentate scrivetevi lasciate un bel pollicione in su mi sa che sta cominciando a crescere l'uva quindi nel prossimo gameplay fertilizziamo di nuovo e quindi vi ricordo che in descrizione appunto ho trovato il link per comprare questo gioco scontato e tanti altri vi ricordo anche che vi lascio il link diciamo di come si lavora l'uva però in inglese vabbè e niente ragazzi quindi ci becchiamo presto dai ciao alla prossima ciao Grazie.